Ti interessa a tutti questo? Io penso che spesse volte i complimenti ti fanno non perché ti devono fare, almeno non vedo mai tanti colleghi che fanno complimenti perché la squadra per stare a giocare bene, anche se vince. Quindi è un premio a quello che fanno i ragazzi e questo deve essere una consapevolezza per loro, perché se andassimo a giocare con le squadre e facciamo le barricate, e portiamo a casa ugualmente zero punti, forse allora mi preoccuperei. Io credo che se continuando a giocare, magari migliorando attraverso il gioco, l'intensità, il furor agonistico, che non vuol dire prendere a calzotti nessuno, sicuramente è quella rabbia in più che ci può far fare quel saltino di qualità. Una volta appreso questo è il completamente di un gioco che sicuramente dà dei frutti importanti. Ecco mi abile che lei li difenda tutti.